E' una delle due cose divertenti del fare jazz, cioè musica improvvisata, e delle sbirsi da soli. Si può scegliere in un nanosecondo e si può fare un po' quello che si vuole. Vengo definito spesso come cantante jazz, come musicista jazz. Non lo sono nell'accezione classica tradizionale del cantante jazz, lo sono profondamente e me ne vanto dal punto di vista dell'uso dell'improvvisazione. Quindi quello che provo a fare adesso è quello che classicamente nel jazz si fa, e cioè improvvisare. Boris Savoldelli per noi. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.